Era ora che anche Lecce aprisse una finestra sul mondo per una città che vuole diventare capitale europea della cultura. Era il momento di abbattere la barriera dell'ignoranza e dell'intolleranza e di dire che è capitale della cordialità, della convivialità, della tolleranza, del rispetto delle persone. Se posso dire una cosa senza urlare, perché non ho troppa voce. Ci sono due cose che oggi io voglio per me.